Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale. Questa lavorazione che stiamo vedendo in simulazione qui sul simulatore è il risultato finale di un programma che vorrei vedere con voi per quanto riguarda appunto la parte di scrittura. È un programma per il quale non ho intenzione di utilizzare nessun ciclo fisso presente all'interno dei controlli questo perché alcuni cicli sono presenti sui controlli 530 sui controlli 620 e 640 ma non li possiamo trovare per esempio su controlli un po' più datati non andrei troppo indietro però insomma i 426, 430 non troveremo i cicli che occorrono per realizzare ad esempio questo svuotamento qui. E quindi ho deciso di realizzarlo in modo da allargare il più possibile la platea ho deciso di non utilizzare dei cicli che ci sarebbero presenti ora nei controlli ma per realizzarlo utilizzeremo innanzitutto una scrittura in FK per poter definire i punti ora vi mostro rapidamente un dettaglio di quello che è la nostra le quote indicate sul disegno per realizzare questo svuotamento vedete che abbiamo delle indicazioni solamente su questo raggio 48 il raggio 20 dei raccordi da 5 mm e questi 10 mm che rimangono di materiale qui nella parte centrale del nostro pezzo quindi appunto ho deciso di provare a fare questo esercizio con voi e quindi bisognerà scomodare l'FK per definire geometricamente la nostra lavorazione e per lavorarla dovremo utilizzare un po' di parametrica e legata alla parametrica quindi anche la gestione con i sottoprogrammi quindi io avrei molta voglia di fare questo esercizio insieme a voi fatemi sapere se lo volete se lo volete partirò e vi racconterò come realizzare questa lavorazione e quindi può venire utile anche a chi non è molto pratico di alcuni cicli fissi o comunque ha dei controlli a disposizione un controllo un po' datato per cui deve riuscire a realizzare questa lavorazione qui insomma con quello che il controllo mette a disposizione e con quello che la propria zucca vi permette di fare quindi fatemi sapere se volete che realizziamo questa lavorazione qui aspetto le vostre risposte scrivetele nei commenti qua sotto ok? ciao 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 Grazie a tutti